Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 Quindi mi piaceva la chiamata di avere un'altra parte, mi piaceva, non mi sono più problemi nella nostra trattata, ma non si bene. E mi piaceva, mi piaceva, mi piaceva, mi piaceva, mi piaceva, mi piaceva, non mi piaceva. Ma è andata, mi piaceva, mi piaceva, e mi piaceva. E il canto mi diceva, mi piaceva, si è andata. E non ho mai fatto, ma è andata. grazie a tutti 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 a tutti grazie a tutti